Siamo nel camion service, nella unità service di TM Racing, siamo a Muro Leccese, c'è la VSK. Abbiamo la piastra e l'olio, se no facciamo così. Sì, sì, togli, tanto abbiamo già capito che hai perso. Allora, la scommessa consiste in questo. Franco Drudi, lui, scommette di saper smontare questo TM, il KZ10C, che ha fatto la pola oggi. Non serve. Allora, lui lo smonta a occhi chiusi in meno di... 8 minuti. In meno di... Ok, so, the legendary Franco Drudi, quanti titoli mondiali hai vinto? Eh, se li ho dimenticati. Ok, so, the legendary tune-up Franco Drudi, we don't know how many World Championships this one. The bet is, he can disassemble this KZ winning engine. He'll be blind, like blinded, blindfolded. Ok. Più veloci di te, Yannick. Sì, no, ma io ho anche occhi aperti, anche con... Ok, so, he has to do it faster than... Anche con le istruzioni ci metterei di più io. Ok. And whoever wins doesn't pay for dinner. No, I'm thinking doesn't pay for breakfast because I think Yannick's gonna be here till breakfast. Allora, noi abbiamo praticamente preparato questa cosa molto elegante, molto fine, di stile oserei dire. Ci siamo comprati stamattina lecce al Decathlon e in sostanza gli abbiamo dato una verniciata, una verniciata con la bomboletta. Mi sembra un lavoro fatto bene, mi sembra che sia venuto a fare un lavoro fatto bene. Adesso, diciamo una cosa, c'è una tensione della madonna perché Franco ha scoperto... Ah no, però adesso non è più quello lì il motore, è usato questo Franco, ti abbiamo voluto avvantaggiare, diciamoci la verità. Comunque, il discorso è questo, in otto minuti lui dice di smontarlo tutto, cioè tutto, io ho capito che lo smontava in due parezzi, tre troncori. Franco però aspetta, ah devi... Ho cavato l'olio, dai. Eh, ok, ok. Allora, dimmi tu quando partiamo io metto il conto alla rovescia, partire. Dov'è? Otto minuti. Diciassette. Manca diciassette. E come lo smonti il Jiggler? Come lo smonti il Jiggler? Il Jiggler non c'è nel motore, è cocorita. Ah, ok. Ok, no. Va bene. Carico il trapolo. È carico il trapolo, guarda, 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 guarda. Oh, oh, ha presa male. Questo vuole aiutare, vieni qua, vieni qua che aiuti tu. Vai fuori, vai fuori. Così, fermi. Oh, si parte? Tre. Ah, così. E' partito, è partito Franco Drudi. Attacca, subito attacca la frizione, la frizione. No, non è vero, è l'accensione. Può落à, guarda, 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 guarda. Allora... 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 non beve la peste non beve ma sente 3 minuti 3 minuti il seger eccolo lì individuato oh non vedi davvero però cazzo l'hai beccato giusto prosegue la scommessa che lo puoi fare adesso fermare il tempo il tempo un attimo e il fumo non si vede aia il fumo non si vede la parte anteriore la parte intera la più ostica la più difficile aperto è aperto il motore è finita è finita è finita bravo franco buonasera era per prenotare per questa sera per 1 2 3 4 5 a cena se era possibile certo come no a che ora che ora facciamo ragazzi alle 9 alle 9 chi paga chi paga chi paga no no è per i ragazzi qua qualcuno pagherà pago io franco a nome franco ma pagagliane che segni bene franco franco